è il quarto anno del summer camp del progetto sinergia e anche quest'anno lei si è stato popolato per due settimane dai neodiplomati della scuola fermi di lecce a volte di lodi entrambi i gruppi sono stati selezionati hanno avuto della formazione e infine dopo una graduatoria hanno avuto accesso a queste due settimane di formazione la prima impressione che ho avuto appena arrivati qui è l'organizzazione della serietà appena siamo arrivati qui a roma siamo stati messi a confronto con i ragazzi di lodi elis ci ha insegnato subito a considerarci un unico gruppo sia con loro che con i cinque ragazzi irlandesi centro elis scuola molto organizzata molto fornita di materiale per effettuare elaborazioni diciamo che il team building è stato un rafforzamento di quella prima conoscenza che c'è stata tra le due scuole e la sicurezza è stata molto importante perché abbiamo capito i rischi che ci possono essere sul lavoro e non bisogna mai sottovalutarli nel laboratorio di saldatura abbiamo eseguito cordoni di saldatura in piano prima su una piastra da otto millitri dopo sulla piastra di millitri è un'esperienza molto interessante perché comunque è la prima volta che la faccio è molto impegnativa ma sicuramente gratificante sono felice di aver imparato anche se sono alle basi ovviamente a saldare ho trovato una cosa interessante ma anche sempre impegnativa sicuramente è stata un'esperienza utile per approfondire le mie conoscenze tecniche la prima cosa che ho 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 trovato è che il mondo è più di più di più la prima cosa che ho ho trovato è che il mondo è più di più di più anche quest'anno abbiamo appunto fatto questo summer camp io mi occupavo e mi occupo dei ragazzi della lingua inglese inizialmente non è stato facile perché non essendo molto abituato a sentire parlare solamente in inglese è stato abbastanza difficile i ragazzi sono impegnati tutti, più di meno, ma diciamo che sono molto soddisfatto si è creato un ambiente molto amichevole e familiare abbiamo fatto un ripasso sui frasal verbs, sulla grammatica negli ultimi giorni noi ci siamo centralizzati sulla stesura di cover letter o curriculum mobile mi piace molto amiche le letture inglese, mi piace insegnare gli italiani siamo in un portone di elettrotecnica dove facciamo delle esercitazioni di comandi di motori dobbiamo mettere tutti i pezzi e i vari collegamenti di seguito piano piano ce la stiamo cavando, va tutto bene due prove molto importanti, molto essenziali che serviranno davvero tanto al nostro lavoro per me questa esperienza è stata fantastica secondo me perché ho imparato molto più cose riguardo all'elettrotecnica io mi sto divertendo imparando nello stesso modo adesso sto facendo il semplice avviamento di un motore asincrono trifase l'avevo già fatto a Lecce però qui partiamo proprio dalle basi l'avevo già attraverso l'elettrotecnica l'avevo già attraverso l'elettrotecnica perchè non possiamo fare qualcosa come questo in Irlanda e è il mio primo anno fare l'elettronica come questo e è stato divertente Sì, la Roma è stato brillante, è stato fantastico il rafting è stato uno dei migliori parti per me è stato davvero divertente e per incontrare tutti l'elettronica che mi piace di più è stata quella della Villa d'Est la Villa d'Est era molto grande e soprattutto le fontane, soprattutto quella con l'organo che si azionava in modo idraulico se dovessi descrivere il summer camp con una parola io sceglierei entusiasmante formazione affascinante il summer camp è stato un bel progetto il summer camp mi ha insegnato tante cose soprattutto a convivere in un gruppo comunque di 35 persone mi ha aiutato a crescere, mi ha aperto la mente è stata molto bella l'esperienza del fatto di parlare con comunque dialogare e avere un rapporto con degli irlandesi che non mi era mai capitato ho acquisito anche nuove conoscenze in campo tecnico la consiglierei ad altri anche perché è organizzata molto bene professori molto qualificati, seri, anche simpatici grazie a tutti